Allora, diciamo che dopo i nostri primi due incontri, dove abbiamo iniziato a analizzare il regolamento 1143 del 2024, un regolamento europeo sulle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, oggi chiudiamo questo ciclo di tre incontri, sempre in riferimento a questo regolamento, e andiamo a esaminare il tema della sostenibilità. Il tema che ovviamente il regolamento richiama, e la sostenibilità è un concetto ormai conosciuto, di cui si disclusisce quotidianamente a livello comunitario, prima di tutto partiamo dal concetto di sostenibilità, che cosa si intende con questo termine? Cioè, sostenibilità significa sostenere, difendere, ma anche conservare o prendersi cura. E questo concetto è un concetto che non è un concetto nuovo, non è stato coniato recentemente, ma risale già agli anni Ottanta, dove è stato adottato per la prima volta, ufficialmente nel rapporto Our Common Future, pubblicato nel 1987, che poi la Commissione Mondiale per l'Ambiente ha divulgato nel programma delle Nazioni Unite. E la visione del tema di sostenibilità la troviamo anche nel Green Deal europeo, che riprende sostanzialmente il concetto, e si prefigge poi come obiettivo quello di rendere l'Unione, come la prima zona al mondo, a sostenibilità, a impatto climatico zero entro il 2050. Ora, l'obiettivo qual è? Quello di ridurre sicuramente l'inquinamento, nell'ambito anche di un approccio che può essere in qualche modo collegato con profili economici, quindi abbiamo elementi ambientali della sostenibilità, ma nel Green Deal in qualche modo si tocca anche quello economico. Il concetto però di sostenibilità non è limitato a questi due elementi, quindi non solo ambientale e non solo economico, ma bene, vi è una terza declinazione che è quella di carattere sociale. Ora, la componente ambientale, sostanzialmente della sostenibilità, è un po' la risposta che si vuole dare al cambiamento climatico, e quindi una sostenibilità ambientale pone attenzione principalmente a aspetti che hanno un carattere ambientale, possono essere ad esempio le emissioni dei gas serra, cercare di ridurre l'inquinamento e quindi di evitare dall'altro lato anche l'esaurimento delle risorse fondamentali, tutto il concetto dei danni alla biodiversità, di cui si sta discutendo anche molto in agricoltura. Poi abbiamo la componente economica, che è sostanzialmente quella collegata principalmente allo sviluppo e alle imprese in sé considerate, quindi il costo della produzione dell'offerta alimentare, la reddittività, quindi reddito anche eco, contributo all'economia locale, sono tutti aspetti, quelli della sostenibilità economica, che possiamo dire strettamente connessi alla crescita e allo sviluppo economico di un settore, e che deve essere raggiunta attraverso un sistema, se vogliamo, efficiente di risorse disponibili, guardando anche in maniera indiretta, se vogliamo, l'ambiente e poi i consumatori. Vedremo poi nel diagramma che segue come la sostenibilità di fatto sia sostanzialmente una sinergia tra questi tre elementi che abbiamo appena detto. E poi c'è l'aspetto sociale, che generalmente affronta le questioni che sono legate da un lato appunto ai temi del lavoro, dell'inclusività, ma anche al benessere degli animali, dell'ambiente di lavoro, della società che è coinvolta nella produttività in genere. Il diagramma di cui abbiamo fatto cenno, ma che avrete visto già tutti tantissime volte, è quello che vi compare ora nella slide, sostanzialmente la declinazione triplice della sostenibilità sociale, ambientale e economica, ovviamente raggiunge la sua performance nel momento in cui le imprese del settore agroalimentare sono in grado di garantire tutte e tre queste forme di sostenibilità. Vedremo poi adesso nel regolamento che in realtà il regolamento comunitario dà la possibilità anche all'impresa di scegliere quale tipo di sostenibilità adottare nei propri piani produttivi. Il regolamento nel primo punto in cui tratta la sostenibilità è considerando 23 e alla base della disciplina introdotta appunto da regolamento sta un'idea secondo cui la politica dell'unione, vi leggo testualmente cosa dice considerando, in materia di qualità dovrebbe contribuire a consentire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, e questo ce lo ritroveremo poi, rispettosi dell'ambiente e del clima che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse e socialmente ed eticamente responsabili. Quindi il tema della sostenibilità entra nel regolamento 1143 in tutte le sue declinazioni, come vediamo in questo senso. Con questo intervento normativo il legislatore europeo non ha inteso però imporre degli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare, preferendo invece privilegiare un approccio un po' più leggero, volontario possiamo dire, basato sulla spontanea adozione di apposite, vengono definite così, pratiche sostenibili, come le definisce appunto la norma, che comprendono obiettivi ambientali, sociali ed economici, che in qualche modo vanno al di là, diciamo, di norme obbligatorie, e che siano poi correlate almeno da uno di questi tre principali tipi di sostenibilità che abbiamo appena detto, ambientale, sociale, economica. Il regolamento riconosce sostanzialmente che le identificazioni geografiche possono ricoprire un ruolo importante in termini di sostenibilità, e soprattutto ai fini del raggiungimento di quelli che sono anche gli obiettivi del Green Deal che abbiamo detto prima. Il tutto verso un sistema alimentare che dia risposta a questa esigenza di sostenibilità, ma anche esigenza della società rivolti a metodi di produzione che in qualche modo mirano al raggiungimento di quelli che sono le richieste anche del mercato talvolta, ma soprattutto anche quello che è un po' l'interesse, non solo comunitario, ma dei singoli stati, di garantire prodotti sostenibili sotto tutti i profili. Quindi è pacifico che i comportamenti responsabili delle imprese produttici influenzano certamente il rapporto che queste hanno con i clienti, con i consumatori, rafforzando anche l'immagine e la reputazione aziendale. Oggi più che mai, penso che siamo tutti al corrente, che i consumatori sono attenti nel momento in cui acquistano un prodotto, che può essere una bottiglia di vino, un prodotto alimentare o agricolo, qualunque, qual è l'approccio che ha avuto quel produttore in materia di sostenibilità e soprattutto avere anche la garanzia che la sostenibilità che viene acclamata o dichiarata in quell'etichetta, in quel prodotto, abbia poi una certezza sia effettivamente rispettosa dei protocolli o delle pratiche di sostenibilità. Tant'è vero che poi i produttori stessi investono molto anche sulla pubblicità, proprio diretta a rappresentare e esporre ai consumatori quello che è il loro impegno che hanno sulla sostenibilità. Quindi abbiamo detto spontanea adozione di apposite pratiche sostenibili, che sono pratiche che devono essere adottate dall'imprenditore proprio per raggiungere gli obiettivi ambientali, sociali e economici, che va al di là di norme di carattere obbligatorio. E l'altro aspetto anche molto importante che richiama il regolamento, poi andiamo a vederlo meglio, è la divulgazione delle pratiche sostenibili mediante apposite relazioni. E ovviamente non sono a carico dei singoli produttori queste relazioni, ma dei gruppi di produttori di cui abbiamo fatto cenno nelle scorse occasioni, ma che poi Mario ci spiegherà. L'articolo 7 è il primo articolo che tratta il tema della sostenibilità nel regolamento. E il primo comma ci dice che un gruppo di produttori o un gruppo di produttori riconosciuto può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'identificazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose rispetto a quelle prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale in termini di sostenibilità ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali. Quando è che una pratica può sostanzialmente definirsi sostenibile? Prenderemo via slide. Sì, fermo. Sì, ma sono ancora in questa, credo. Ah, scusa. Niente. L'ho fatto. Credo di sì. Sì. Quindi, quando una pratica è sostenibile, una pratica si intende sostenibile quando contribuisce a uno o più degli obiettivi della sostenibilità, che abbiamo detto prima. E le pratiche sostenibili devono intendersi quindi idonee a contribuire a uno o più obiettivi specifici, che sono quelli che abbiamo detto, basandosi su standard che sono più rigorosi di quelli previsti da normativa nazionale o di carattere europeo. Certo è che le pratiche sostenibili devono essere incluse in un disciplinare, proprio perché il fatto che queste pratiche vengano incluse in un disciplinare, anche l'obbligatorietà poi di applicazione deriva dal fatto che chi aderisce a quella determinata identificazione geografica si trova a dover rispettare appunto il disciplinare e quindi le regole, le pratiche procedurali e sostenibili che quel gruppo di produttori o quel consorzio hanno deciso di adottare al fine di raggiungere gli obiettivi proprio della sostenibilità. Adesso andiamo a vedere un attimo i tre obiettivi, quindi economici, sociali e ambientali. Tra gli obiettivi economici il regolamento precisa che rientrano la garanzia di un reddito stabile ed equo è una posizione forte lungo tutta la catena del valore per i produttori di prodotti disegnati da una IG, da un'identificazione geografica. Il miglioramento del valore economico dei prodotti, questo poi è fisiologico, nel momento in cui si adottano delle pratiche di sostenibilità i prodotti stessi aumentano il loro valore anche economico e di qualità. la ridistribuzione del valore aggiunto lungo la catena del valore, il contributo alla diversificazione dell'economia rurale e dello sviluppo locale, compresa l'occupazione del settore agricolo e la preservazione delle zone rurali. Questo è anche poi uno di quegli obiettivi che, oltre a essere indicati nell'articolo 7 del regolamento, vengono anche richiamati dal considerando numero 24 sempre del regolamento. Poi abbiamo gli obiettivi ambientali delle pratiche sostenibili, scusate, forse, ok ambientali, delle pratiche sostenibili devono includere mitigazione dei cambiamenti climatici, ovviamente anche qui Green Deal ci insegna, e l'adattamento agli stessi, cioè un'agricoltura oggi è sempre più in evoluzione, deve essere in grado di mutare al mutamento del clima, dei cambiamenti climatici, adeguarsi, ed essere in grado di garantire una produttività dei fondi. Conservazione e l'uso sostenibile del suolo, del paesaggio, dell'acqua e delle risorse naturali, anche questo il considerando 24 lo richiamo in maniera esplicita e chiara. Conservazione della biodiversità, delle sementi rare, razze animali e varietà vegetali. Obiettivi sociali. Gli obiettivi sociali invece conciano il miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione, contrattazione collettiva e quindi garantire anche a chi opera, ai lavoratori, un reddito equo, la protezione sociale, norme di sicurezza, capacità di attrarre i giovani, quindi maggiore attenzione anche al passaggio generazionale, agevolare la solidarietà e la trasmissione anche delle conoscenze alle generazioni che verranno dopo. E affinché queste pratiche poi così stabilite dal regolamento e dall'articolo 7 nello specifico, siano vincolanti per tutti coloro che realizzano un determinato prodotto, una determinata qualità, è però necessario che queste pratiche vengano poi inserite nel relativo disciplinare, ad opera dello stesso gruppo di produttori. E questo ce lo dice l'articolo 32 al quarto comma lettera A, se non sbaglio, del regolamento. Ma il gruppo di produttori, di cui facevamo cenno, ha anche altri compiti rispetto a quelli che sono propri del gruppo. E l'articolo 8 ci dice quali sono questi ulteriori compiti e dice un gruppo di produttori o un gruppo di produttori riconosciuto può redigere e aggiornare regolarmente una relazione sulla sostenibilità basata su informazioni verificabili, recante una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate proprio nella produzione di quel prodotto, dell'impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità, in termini di impegni sia ambientali, sociali, economici e di benessere animale, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto. Ora, questa disposizione riconosce quindi ai gruppi di produttori la facoltà di redigere e aggiornare poi su base periodica una relazione sulla sostenibilità che in qualche modo è diretta a fornire una descrizione delle pratiche sostenibili che vengono adottate appunto da quel gruppo di produttori, dell'impatto che il metodo di ottenimento del prodotto ha sulla sostenibilità, ma dall'altro lato anche del ruolo che la sostenibilità è in grado di esercitare sullo sviluppo del prodotto stesso. Ora, questa relazione viene poi pubblicata ad opera della commissione. Il dato ovviamente ha una rilevanza con grande importanza poiché la pubblicazione in qualche modo aiuta a correggere anche quelle che vengono definite come informazioni asimmetriche. Noi sappiamo che i consumatori si trovano sempre in una posizione di svantaggio sulle informazioni che acquisiscono dagli operatori del settore, dai produttori e dai distributori e quindi l'esistenza di questa pubblicazione di queste informazioni che vengono divulgate, vengono pubblicate in qualche modo va a ridurre questo errore, no, di queste informazioni asimmetriche. E di riflesso consente anche ai consumatori di selezionare poi quelli che sono i prodotti per loro più sostenibili. L'attenzione da parte dei consumatori è pacifico, ma l'abbiamo già detto, soprattutto oggi e soprattutto in Italia, ma anche in Europa generalmente considerata, è veramente un punto di attenzione nell'acquisto di prodotti alimentari. La pubblicazione delle relazioni sulla sostenibilità diventa quindi strumento anche se vogliamo, per il nostro Stato, già per l'Italia, una sorta di tutela, no, anche del made in Italy e per questo appunto ha una rilevanza fondamentale. Anche per il numero ovviamente di indicazioni geografiche che noi abbiamo registrato rispetto a molti altri paesi dell'Unione. E iniziamo già a vedere una sorta di attenzione, adesso l'esperienza che abbiamo io e Mario è molto più diretta anche nell'ambito del settore vitivinicolo, ma proprio in un'ottica di attenzione alla sostenibilità, nel settore vitivinicolo sono state fatte anche scelte di andare a bandire principi attivi dannosi che possono creare problemi per l'ambiente, che ovviamente poi dovranno essere valutati e inseriti nei disciplinari o come anche introdurre delle piante mellifere poi per favorire l'insediamento delle api. Abbiamo anche assistito a casi in cui ci sono progetti di inserimento tra i filari di vite di siepi in modo tale da un lato di tutelare se vogliamo la biodiversità e quindi creare zone di nidificazione per animali ma dall'altro lato anche quella di tutela del paesaggio che abbiamo visto viene richiamata anche da questo regolamento nell'ambito della sostenibilità. Quindi io credo di dover passare la parola a Mario e poi ritorno in conclusione. Grazie. Mario, questa dovrebbe essere la tua slide. Tu usi le tue, credo. però non ti sento. Eccomi qua. Avevo disattivato il microfono per non creare delle interferenze. Allora, nuovamente buon pomeriggio a tutti anche da parte mia e grazie per la vostra partecipazione. Andiamo subito al dunque. Allora, andiamo subito il dunque e vediamo un po' di eccoci qua. Questo lo mettiamo qua un po' di collaggi vari questo lo mettiamo qua così e ci siamo. Cosa fanno i gruppi di produttori? Ma i gruppi di produttori li abbiamo visti la volta scorsa nel corso del webinar interamente dedicato a questo tema. Quindi in questa sede più che credo che sia semplicemente necessario ricordarlo rinviando invece alle slide meglio ai video che sono anche disponibili sul sito di Aschieri per quanto riguarda la trattazione approfondita del tema dei gruppi di produttori. Ricordiamoci che alcuni gruppi di produttori sono i soggetti che sostanzialmente sono pensati come coloro che si occupano della governance delle varie denominazioni. Gruppi di produttori che in Italia li chiamiamo consorzi di tutela quindi semplicemente per capire di che cosa stiamo parlando abbiamo dal punto di vista della terminologia comunitaria gruppi di produttori gruppi di produttori riconosciuti noi abbiamo i consorzi di tutela e i consorzi di tutela che svolgono attività erga omnes e quindi che non che può andare ad influire ad impattare anche su coloro che non sono associati al gruppo di produttori ma producono comunque lo stesso prodotto a denominazione di origine che il gruppo di produttori si prefigge di tutelare. In Italia diciamo che l'attività erga omnes dei consorzi è possibile quando c'è un determinato livello di rappresentatività che è stabilito dal testo unico del vino il diritto dell'unione prevalente ma comunque non prevede una soluzione differente dice che quando essi hanno comunque un livello di rappresentatività o meglio non parla il termine di rappresentatività ma riuniscono almeno il 50% dei produttori o il 50% comunque del prodotto eccetera possono sostanzialmente esplicare fare cosa essere gli unici che hanno diritto a fare determinate cose quindi un qualche cosa che è molto simile a quello che noi chiamiamo attività erga omnes questo solamente per riassumere velocemente allora il gruppo di produttori cosa fa non riconosciuto quindi non quel livello di rappresentatività o comunque di previsto dal regolamento beh ovviamente concordare una delle sue competenze appunto concordare le pratiche sostenibili quelle di cui vi ha parlato Andrea che possono essere o comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo d'accordo se sono inseriti nel disciplinare sappiamo che poi diventano sostanzialmente vincolanti per tutti coloro che producono il rispetto di quel disciplinare quindi qua c'è un certo tipo di spazio che non è esattamente chiaro cosa voglia dire da questo punto di vista potremmo dire che la loro competenza è quella di andare a concordare queste cose ma non sono gli unici che hanno il diritto di andare a definirle quindi concordare magari con altri soggetti che possono essere facendo riferimento ad esempio al caso italiano l'assemblea dei produttori generali che riunisce anche coloro che non sono associate all'interno del corso e comunque andare a definire quelle che sono le pratiche sostenibili e questo può essere un modo per inserire all'interno del disciplinare anche in assenza di attività di rappresentatività come la si voglia definire o separate da quest'ultimo in caso le pratiche separate diventa più facile nel senso che non sono incluse nel disciplinare vengono a questo punto individuate all'interno di un gruppo di produttori tutti coloro che poi producono e che appartengono al gruppo di produttori stessi diranno produco questo prodotto di denominazione ma seguo anche queste determinate pratiche sostenibili che non sono a sua volta comprese nel disciplinare quindi abbiamo una soluzione da questo punto di vista abbastanza elastica se vogliamo la situazione cambia leggermente come abbiamo già segnalato la volta prossima quando il gruppo di produttori è riconosciuto in questo caso è l'unico ad avere diritto di fare cosa svolgere i compiti di cui è l'articolo 32 per tutti i produttori quindi già richiama quanto vi ho detto nella precedente slide perché la precedente slide richiamava appunto l'articolo 32 ma poi specifica ancora concordare le pratiche sostenibili ma a questo punto il gruppo di produttori riconosciuto legacy consorzio erga omnes con attività erga omnes in Italia magari come ho detto dovranno un attimo ritoccare forse i livelli rappresentatività ma sono sfumature queste bene sono gli unici che hanno avere il diritto di andare a definire quali sono le pratiche sostenibili è ovvio che se lo fa il gruppo di produttori riconosciuto molto verosimilmente non ha senso che le tenga fuori dal disciplinare molto verosimilmente vengono inserite nell'interdisciplinare perché a questo punto diventa quasi tautologico se vogliamo allora bene questo è sostanzialmente lo schema che abbiamo visto il regolamento quindi individua sostanzialmente l'idea di pratiche sostenibili Andrea vi ha spiegato che cosa sono le pratiche sostenibili cosa possono andare a disciplinare e poi quali sono i soggetti che hanno competenza per andarle a definire in buona sostanza ma forse diventa più interessante entrare a questo punto anche in qualcosa di più concreto al di là di quelli che sono insomma la ricognizione del contesto normativo di riferimento e allora facciamo qualche riflessione su questo tema la prima riflessione parte leggermente un po' da lontano ma il punto di partenza qual è? è questo quanto vi ha detto Andrea prima quella è purtroppo mi è venuta un po' tagliata nello stamparla comunque le pratiche sostenibili mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell'unione o dal diritto nazionale in termini di sostenibilità ambientale sociale economico e di benessere degli animali o o o o quindi quello che diceva anche Andrea viene sottolineato ci si può concentrare anche solamente su un aspetto quindi ulteriore elasticità da questo punto di vista quindi qualcosa comunque il punto di fondo qualsiasi cosa vado a vedere deve essere più rigorosa e poi di cose prescritte dal diritto dell'unione o dal diritto nazionale perfetto prendiamo questo come presupposto veniamo veniamo scusate veniamo in Italia in Italia facciamo un passo prima questo è un regolamento nel 2024 ma nel 2011 viene creato il sistema italiano per forza di qualità nazionale della produzione integrata SQNP questa famosa sigla che ha anche un marchio la vedete una petta in buona sostanza che gira con la scritta SQI sopra lo trovate su qualche prodotto in buona sostanza e questo concerne tutti i prodotti agricoli tutti i prodotti agricoli quindi agri-food agricolo e come disse essere il non a denominazione di origine perfetto poi abbiamo avuto un'evoluzione un'evoluzione che ha portato all'adozione del disciplinare del sistema di certificazione e sostenibilità della filiera vitivinicola che è un decreto ministeriale del 2022 cos'è questo? costituisce lo standard specifico della filiera vitivinicola parentesi per tutti i vini anche non a denominazione nell'ambito dell'SQNP quindi nel sistema nazionale quindi sono le regole specifiche sostanzialmente per i vini allora noi ci diomigliamo benissimo ma una un modo di applicare un consorzio in buona sostanza potrebbe dire se lo ritiene ovviamente ma noi utilizziamo a questo punto qua inseriamo per farmi capire un esempio all'interno del disciplinare il fatto che il prodotto oggetto del disciplinare dovrà essere conforme agli standard se agricolo SQNP perché comunque è un prodotto agricolo e se è un vino dovrà essere conforme dovranno essere certificati secondo il sistema di sostenibilità degli infili riviti vitivinicola cioè utilizzare questo come standard come parametri di sostenibilità da inserire o come pratica sostenibile separata dal disciplinare o come caratteristiche come indicazioni come contenuto degli obblighi di sostenibilità volontari previsti all'interno del disciplinare di produzione questo è sostanzialmente il tema di riflessione che vi voglio proporre allora si no ne quale soluzione beh questi allora se noi richiamiamo la precedente la precedente la precedente slide cosa abbiamo sembrerebbe che si vuole un qualcosa di più rigoroso di quelle prescritte dal diritto dell'unione o dal diritto nazionale allora si dice questi sono fondati su norme di legge non va bene questo potrebbe essere un primo livello di risposta perché queste pratiche devono essere un qualche cosa di diverso però questo tipo di risposta mi sembra forse un po' eccessiva nel senso che è vero che gli standard che abbiamo visto sono fondati su norme di legge decreti ministeriali o quello o quel che si voglia ma l'adozione di questi standard SQNP o del sistema di sostenibilità della filiera vitivinicola è comunque volontaria per le imprese per cui le imprese non sono tenute a produrre in questo modo ma se lo vogliono possono adottare questi criteri e certificarsi come sostenibili allora si potrebbe dire sì è vero è contenuto in norme di legge ma in realtà le imprese che decidono volontariamente di seguire questi sistemi fanno qualcosa di più di quello che è invece imposto dalla legge normalmente all'interno della produzione quindi quindi la risposta da questo punto di vista sarà aperta a volezza e quindi dire ma magari potrebbe essere possibile ma sarebbe troppo facile troppo semplice oserei dire anche troppo bello poter esaurire quel discorso perché in realtà il vero problema sta qua dove sta sta nel fatto che devono essere queste norme della sostenibilità previste dalle pratiche concordate più rigorose di quelle prescritte dal diritto nazionale cosa intendo dire ma quanto effettivamente prescritto all'interno di questi di questi di questi sistemi prevede effettivamente qualcosa di più rigoroso oppure no capite dove voglio arrivare poco per volta voglio arrivare ma andiamo effettivamente a leggere cosa c'è scritto all'interno e cerchiamo di capire se c'è contenuto perché qual è il grosso problema che noi possiamo trovarci di fronte è il classico problema di qualcuno che dice io sono sostenibile io faccio grandi cose ma poi come si dice sotto il vestito niente perché sono polemico in questo modo facciamo ancora uno step mettiamo un altro elemento che nella nostra discussione va bene abbiamo che è stata appena adottata da pochi mesi la direttiva 825 del 2004 ovviamente per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela delle pratiche sleali dell'informazione la cosiddetta direttiva contro il greenwashing in buona sostanza questa direttiva è andata da modificare quella che è la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e questa si applica ovviamente anche all'azione dei gruppi di produttori e quindi anche alle regole sulla sostenibilità in sedi disciplinari di produzione cioè gruppi di produttori che vanno ad inserire a creare delle pratiche sostenibili separate in sedi disciplinari dovranno essere anche loro soggetti alle regole attuative poi di questa direttiva allora qual è lo spunto che voglio dare da questo punto di vista lo spunto che voglio dire è che la direttiva dice beh ma se dobbiamo fare le cose vanno fatti in modo serio non possiamo avere affermazioni mentali generiche eco-friendly climate neutral scusate senza alcuna prova o dichiarare che un prodotto ha un impatto neuro-ridotto positivo sull'ambiente quando deriva da partecipazione a programmi di compensazione delle emissioni perfetto quindi questo ci dà un ulteriore segnale e questo è il punto che volevo mettere alla vostra attenzione di dire se sono anche già delle altre indicazioni a livello comunitario che si dice deve essere qualcosa di più rigoroso deve essere qualcosa di contenuto non può essere qualcosa di vuoto in buona sostanza da quello che noi andiamo a definire come sostenibile non può essere aria fritta abbiamo in senso poi un altro elemento che dice l'uso di etichette di sostenibilità sono consentite e saranno consentite una volta che verrà attuata la nostra direttiva solo etichette di sostenibilità basate su schemi di certificazione ufficiali e questo potrebbe essere l'SQNP o stabilite autorità pubbliche allora si dice ma d'accordo perfetto ma se già la direttiva in questo senso ci consente di dire che per dare un contenuto a quelle che sono le dichiarazioni di sostenibilità e quant'altro utilizziamo degli schemi di certificazione per l'SQNP ho risolto il mio bel problema e allora rifacendo il nostro quadro perfetto a maggior ragione io richiamo il sistema di certificazione pubblica eccetera e ho risolto il mio risultato ho risolto il mio problema sembrerebbe a questo punto di dirci ma stiamo parlando fino adesso di nulla per gli ultimi 5 minuti perché perché l'indicazione quant'è allora è volontario utilizzare questi schemi questi schemi addirittura vengono valorizzati dalla direttiva contro il greenwashing e quant'altro sono delle pratiche che sono volontari abbiamo risolto il nostro problema eh beh già però noi dobbiamo fare un esame di natura contenutistica cioè è vero tutto questo che abbiamo detto ma andiamo a fare un esame di contenutistica questo è il disciplinare di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola del dicembre 2022 perfetto e il disciplinare cosa ci dice in buona sostanza ci tratta quella che è la sostenibilità ambientale quella che è la sostenibilità sociale e quella che è la sostenibilità economica perfetto quindi rientra nel quadro che noi abbiamo fatto sicuramente per quanto riguarda la sostenibilità ambientale diciamo ci dà degli esempi concreti di che cosa si può trattare quindi questa è una cosa interessante quindi se vogliamo andare a parlare a dire in concreto a dare degli esempi li troviamo scritti all'interno di questo documento quindi ci può dare degli ulteriori elementi in senso di dire bene lo adottiamo oppure senza adottarlo formalmente andiamo a prendere ad esempio cosa c'è scritto qua dentro o parti di quello che ci sono scritto qua dentro e siamo e per noi il discorso diventa facile quindi un esempio un primo esempio concreto lo potremmo trovare qua in buona sostanza e nella parte ambientale il gioco è tra virgolette anche abbastanza facile stato per il ministero perché perché semplicemente una battuta poi dietro c'è un mondo però abbiamo avuto tutta un'evoluzione negli ultimi vent'anni che si è pensato i prodotti biologici prodotti biologici quindi l'attenzione alla fase produttiva la fase agricola da questo punto di vista qua la fase in campo la fase di trasformazione beh allora questo è un po' abbiamo una mamma che è il prodotto biologico e questa è la figlia in buona sostanza con delle ulteriori declinazioni però è facile trovare del contenuto da questo punto di vista e fin qua abbiamo risolto il problema dov'è che casca l'asino? casca l'asino a mio parere ma non si proponga la vostra attenzione quando andiamo a parlare degli altri aspetti e cioè la sostenibilità sociale ad esempio e allora è interessante dedicare qualche minuto insieme per vedere questo aspetto perché è interessante perché forse qua abbiamo veramente l'aria fritta ma il grosso problema è che l'aria fritta è prevista a mio parere scusate la franchezza questo è messo sul tavolo di discussione all'interno di un qualcosa che è un decreto ministeriale ed è un qualcosa che potrebbe inserirsi nel contesto che abbiamo visto prima allora cosa mi dice alla fine di sostenibilità sociale e intanto noi pensiamo ai problemi che ci sono in agricoltura perché il caporalato sappiamo benissimo che cos'è e sappiamo benissimo che non è che le produzioni DOC o DOP possono essere completamente esenti da questo problema riguarda semplicemente solamente gli altri ottaggi allora cosa ci dice questo disciplinare benissimo l'azienda deve rispettare la normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori calcolando per tutti i lavoratori l'indice di frequentazione l'indice di gravità degli infortuni sul lavoro monitorando l'andamento del tempo oh ma da quando in qua è pacifico che un'azienda debba rispettare la normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori non è sostenibilità sociale questo questo è un rispetto minimale di quelli che sono gli obblighi in legge in materia quindi cosa c'entra con la sostenibilità questa sempre negli ultimi anni è evidente che un'azienda non può prescindere da costituire un rapporto proattivo con il territorio di appartenenza e le comunità in cui opera benissimo queste sono delle belle parole ma cosa hanno di contenuto e per questo deve avviare un confronto su problematiche aspetti della propria attività che possono avere impatti negativi sulla collettività in cui è inserita ok ma il contenuto per questo motivo l'azienda deve predisporre un sistema che permette di raccogliere il tipo di segnalazione o comunicazione proveniente dall'esterno per esaminarle nell'ottica di individuare possibili spunti di miglioramento scusate nuovamente aria fritta abbiate pazienza alla mia durezza da questo punto di vista l'azienda si preoccupa di formare i lavoratori sulle tematiche inerente alla sostenibilità vabbè formazione voi pensate peraltro se questi lavoratori pensate a un'azienda che fa il caporalato o cose del genere ma ti formo anche ti vengo a raccontare un po' di cose ma tanto poi continuo a trattarti nello stesso modo garantendo una corretta manutenzione e utilizzo delle attrezzature e macchine per prevenire incidenti ma questa è antinfortunistica normalissima questo è un obbligo di legge basilare e quindi cosa c'è in più c'è niente qua dentro sul lavoro aumentando in questo modo la consupevolezza e competenza rispetto al proprio lavoro in un'ottica di crescita aziendale ma la formazione di lavoratori contro la prevenzione degli infortuni la forma di tutti i dipendenti o meno che siano il lavoratore eccetera è tenuto cioè l'azienda del decreto legislativo 81 del 2008 in avanti questo è un mantra in buona sostanza non c'è assolutamente nulla premesso che l'azienda deve rispettare le normative obbligatorie sulla contratturistica del lavoro e sulla salvaguardia dei lavoratori e vabbè ci manca pure la stessa deve poter dimostrare di aver rimpiuto gli obblighi di legge attraverso la raccolta dei documenti obbligatori faccio un po' di fotocopie in buona sostanza l'azienda riconosce i principali dati anagrafici almeno so almeno nome e cognome di chi lavora da me si accerta l'esistenza e la completezza della documentazione prevista delle normative ecogenti e nazionalità permesso di giorno eccetera e per questo motivo risponde un elenco aggiornato dei lavoratori comprensivo in indicazione del tipo di contratto applicato della provenienza del lavoratore genere età durata del contratto durata del rapporto lavorativo ma signori ma non è quanto devono fare normalmente le aziende dove c'è e poi andiamo ancora avanti nel caso di personale reclutato tramite agenzie interinali caporalato il grosso rischio sta qua per esempio l'azienda si attiva per accogliere la documentazione attestante e la corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali previste il DURG ok va bene ma questa è una cosa che deve fare normalmente allora signori sostenibilità economica insomma non voglio poi ulteriormente ma capite che c'è veramente poco ma allora ecco dov'è il grosso problema abbiamo a questo cioè pensate al meccanismo magari il consorzio che inserisce magari noti in buona fede non voglio minimamente dire che sia in cattiva fede eccetera il consorzio che agisce che inserisce all'interno del disciplinare il richiamo al dicendo la mia il mio prodotto dopo è perfettamente sostenibile in quanto rispettiamo parlando di vini in questo caso quello che è il disciplinare il disciplinare in questione questo richiamo abbiamo visto che ha senso poterlo fare per le ragioni che ci sono a sua volta la direttiva dell'unione europea quella contro la concorrenza sleale applicata contro il greenwashing in buona sostanza dice che si deve fare solamente riferimento a degli schemi pubblici eccetera e nel momento in cui facciamo riferimento a uno schema pubblico abbiamo niente ma questo è un greenwashing a questo punto legittimato dagli stessi istituzioni questo è il problema di fondo nel quale ci troviamo oggi da questo punto di vista sostenibilità economica l'azienda è invitata a svolgere attività di sponsorizzazione e donazione a favore di enti o istituzioni non riconoscibili alla sua proprietà l'azienda promuove la riduzione degli sprechi e la valorizzazione delle risorse nell'ottica dell'economia circolare e l'azienda fa delle valutazioni capite che da questo punto di vista un approccio di questo genere è veramente riduttivo e di rigoroso qua non c'è assolutamente nulla questo è un problema di fondo che si crea e che si presenta soprattutto nel momento in cui parliamo di sostibilità sociale e di sostenibilità economica che sono forse i settori un po' più ostici e ostici per vari punti di vista se pensiamo poi adesso esuliamo da questo contesto eccetera ma vediamo un po' l'applicazione dei criteri SG anche in America e quant'altro che sta seguendo poi tutto un fenomeno di marci indietro da questo punto di vista però c'erano anche qua delle molto ostacoli nell'andare ad adottare la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica bene io ho presentato le critiche in buona sostanza degli aspetti di delicatezza questo perché perché è importante invece se vogliamo dare un contenuto a tutto quanto che le cose si facciano seriamente che ci sia del contenuto da questo punto di vista e in altri in altri casi in altri contesti invece di contenuto ce n'è Andrea tocca a te grazie Mario io ricondivido le slide per l'ultima su cui spendiamo proprio 5 minuti in chiusura ed è questa lo studio sulla sostenibilità dei prodotti a denominazione d'origine di creazione geografica mi collego a quello che dicevi tu Mario sostanzialmente lo studio che adesso andiamo ad esaminare effettivamente tra le criticità ha individuato proprio i punti che tu hai citato poco fa che effettivamente è uno dei punti critici di effettiva sostenibilità aziendale sotto il profilo sociale economico se vogliamo per le aziende del settore lo studio che vedete qui di fronte in via riassunta è uno studio recentissimo fatto dalla fondazione Quali Vita che ha approfondito un rapporto attraverso una serie di parametri degli elementi che adesso andiamo a vedere e quindi vuole identificare da un lato il crescente impegno anche dei consorzi italiani nel tema della sostenibilità ma dall'altro lato attraverso una serie di indicatori cercare di capire quali sono le criticità di un sistema integrato di produttività sostenibile e capire invece anche che cosa serve o servirebbe in una strategia sulla sostenibilità a vantaggio appunto dei consorzi e di tutti gli operatori del settore questo studio è stato poi fatto con il contributo anche del del ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare su un campione come vedete nel primo trafiletto di 30 prodotti agroalimentari italiani lo studio che cosa ha fatto sostanzialmente è andato a esaminare in relazione a questi 30 prodotti ben 26 norme normative sia comunitarie normative italiane necessarie per andare a definire quale poteva essere una strategia di sostenibilità per una identificazione geografica e quindi si sono esaminati processi produttivi e di gestione delle identificazioni geografiche le normative nazionali europee e poi gli schemi di certificazione di cui 5 regolamentati e 30 volontari e in questa analisi poi ovviamente non potevano mancare i consorsi che sono poi quelli che sostanzialmente devono indicare quali sono questi protocolli di sostenibilità da applicare che devono poi rispettare i produttori e quindi vanno a disciplinare le regole del gioco ecosostanzialmente e in questo elaborato che è abbastanza corposo ci sono quindi queste quattro sezioni che sono queste indicate nel prospetto in cui vengono sottoposti sia ad esame e discussione temi di importanza centrale sulla sostenibilità e sono proprio quelli che abbiamo detto come viene declinata la sostenibilità sotto i tre profili ambientale sociale ed economica e le aree in cui si è notato che c'è un grosso deficit sono a parte quella del rischio climatico ma molto spesso sono quelle legate ai temi che ha detto prima Mario cioè alla consapevolezza da un lato dei temi dei lavoratori dei pericoli sul luogo di lavoro che sostanzialmente si mantengono ma non sono un'annunciazione qualcosa di sostenibile la formazione diretta indiretta lì si è parlato di formare i dipendenti però in realtà ci va qualcosa di più rispetto a quello e poi altri temi su cui siamo ancora indietro meglio nell'ambito di questa sostenibilità sia ancora indietro un po' nell'emissione dei gas serra e ovviamente contenimento gestione del rischio climatico ma quello penso sia un problema di difficile soluzione e tutte le pratiche poi di conservazione del suolo e questi aspetti da un lato o sono poco rappresentati nei disciplinari di produzione o quando sono disciplinati sono disciplinati in maniera non coerente e che non possono essere qualificate forse anche a mio parere come strategie di sostenibilità e sulla base di questa ricerca è stato poi individuato quello che viene definito come una strategia di sostenibilità per le indicazioni geografiche e un contributo una partnership tra la FAO e Origin che è un'alleanza sulle indicazioni globale di indicazioni geografiche e che hanno dato delle linee guida su come attuare delle strategie di sostenibilità affinché i consorzi o comunque i produttori siano in grado di avere un piano di sostenibilità coerente e concreto sulla base di una serie di metodologie operative concludo con una frase che insomma è interessante dove si dice che la sostenibilità non è uno stato ma è un percorso e quindi questo fa capire che in realtà l'azienda può dire io sono sostenibile o un consorzio sono sostenibile ma questa sostenibilità non è uno status ma più che altro è un processo che deve iniziare e continuare in un'evoluzione costante proprio per il raggiungimento di questi obiettivi grazie a tutti ho concluso quindi penso che possiamo dare la parola alla regia per il questionario grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti